Ciao a tutti ragazzi siamo AlfaSoftair e questo è un nuovo video, prestamente, ci è arrivato l'unboxing, qui è molto pesante davvero, e abbiamo ordinato da una mezza i softair dietro la continuazione. L'abbiamo ordinato da un sito che fino ad ora non conoscevamo, infatti non ci è arrivato, nessuno stava da farvelo vedere, e abbiamo ordinato un paio di cose, abbiamo anche mandato la pistola in riparazione e credo che ci sia arrivata. Però senza caricatore perchè mi si era pronto e non ho comprato il caricatore perchè non ci arrivava. Allora ragazzi, apriamo il pacco, Pietro con il suo taglierino e partiamo. Io ho fatto con lo staffolo. Ecco qui e adesso qui. Ecco. Questa cosa è il cartello di imballaggio? Questa cosa è il cartello di imballaggio? Allora, mettiamo la carta di imballaggio. La prima cosa che si vede? È la bomboletta di cassi, quella che serve per caricare le pistole. Poi abbiamo una maschera. Vai! Ragazzi, mi è arrivata la misera ordinata da poco. Un pacco di palline, due pacchi di palline. della Royal, come vedete. Uno pacco, due pacchi di palline della Royal. Poi! 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 Poi Pietro! Pietro! Guarda! Guarda! La mia pistola che avevo mandato in riparazione, ve la faccio vedere subito. Apriamo qua. Allora, è una beretta. È la beretta B92 PS. Poi vi faremo una recensione della beretta B92 sempre, ma non PS. Questa è la normale full metal. Come vedete è quasi tutto full metal. Guardate che rumore. Lo scatto e il cric è molto bello. Davvero. Facciamo il cane. Cane. Allora. Allora. Quale abbiamo? Il mio caricatore per G36 e il mio nuovo comfort ragazzi. Sempre della Royal. Fagli vedere il tuo. Se non credete che quello suo è quello mio e il mio è qua. Non sono uguale. Faglieli vedere giusti. Allora. Uno e due. Ne avevamo due. Questo qua era quello. Sono uguali. Però non sono della stessa cosa. No, però. Allora. Questo qua. L'avevo ordinato. Il prossimo con il. Avevo fatto la recensione. Molto bello veramente questo sporchettamento. E vedo ancora delle cose. Allora. Poi. Ora posso sparare. Pietro. Oggi proviamo la pistola. Le borbolette. Di gas a CO2. L'unboxing. Diciamo. Pietro. Finalmente questo boxing è ferito. Lasciate un like e un commento. Condividete i vostri video. È tutto. Ci vediamo alla prossima volta. Se abbiamo il tempo faremo la recensione della pistola. E ci vediamo alla prossima volta. Salve a tutti. Ciao ragazzi.